Salve a tutti amici e ben trovati, sono i vostri ministeri, eccoci qui per l'episodio di Rupert Nessera del S4 e di seguire in sorcellenza questa campagna con la Bohemia in Bohemia Razzoli che è diventata Grande Moravia infatti è uscita a creare una Grande Moravia che è un'istrata dai tempi del Medioevo, quindi una grande impresa e ora siamo vicini a finire questa campagna con il comportamento Mission Tree il raggiungimento delle ultime riforme imperiali, ci metterò di centralizzare e di creare il Sacro Imperio quindi un'altra trasformazione del nostro caro, del nostro caro Bohemia e in ultimo è l'egemonia commerciale, cioè di controllare 4-5 elementi importanti che si trovano nel nostro dominio che sono Pest, Cacopia, Vienna, Sassoni e l'Elettura anche Reynald prendendo anche parte di Champagne, Guava Tiragusa, Costantinova, insomma davvero avremo un impero incredibile e mi cerca quindi di migliorare, di massimizzare le entrate, nonché anche la forza militare prenderci quindi la grande forza egemona d'Europa e non solo è un progetto a dire che con la Bohemia mi sono anche abbastanza divertito quindi siamo davvero vicini alla fine e di tutto il momento di fare sul serio come? Per quanto di migliorare il nostro Stato, per ogni aspetto e quindi sarà questa volta un episodio un modo più amministrativi che di guerra anche se qualche guerra in questi territori che sono o parte dell'impero o che potrebbero esserlo per esempio noi potremmo percepire bene tutti la presenza danese e anche questa città per avere una connessione con il nostro impero e del Baltico è un po' interessante come cosa, non mi dispiacerebbe non mi dispiacerebbe perché poi c'è Lubec e Baltico potremmo trasformare Lubec come il centro del nostro commercio perché in teoria Lubec è un punto di fine per molti commerci tra Sassonia e Reinald, Vienna, tra Sassonia, Gracovia, Baltico in questi posti potremmo cercare di trasformare Lubec come il nostro centro importante del commercio è un po' quello che fece la Prusa con la confezione del Reno che trasformò appunto il nodo della Germania come la parte più ricca di tutta la Germania ma dai superi per iniziare questo video di oggi ma prima di iniziare vi consiglio di like, commentare e condividere se potete essere il canale vi ricordo anche la possibilità di seguirmi sui social come Facebook, Discord, Instagram e TikTok così per sapere di più sul mio lavoro potete viaggiare altri contenuti in montagna di offerte e partecipare all'attività del canale di community tra sondaggi, richieste e discussioni in uso c'è anche la possibilità di abbonanza del mio YouTube a fare la maggior parte di vantaggio a cui beccemo oggi qui tutte le altre prime anche se le ricavate e quant'altro c'è anche la possibilità di abbonanza del mio Twitch infatti sono tornato a fare live su Twitch e YouTube in contemporanea quindi per supportarmi il mio lavoro ma anche per seguirmi e non ci sono ragioni ma seguite i social o le notifiche vedete la, diciamo, avvisati quindi a tre le campelline sia YouTube, sia Twitch tutto questo ragazzi ci siamo sentiti oggi io spesso come sempre il bando e le ciance e che il nostro viaggio appena inizio bene quindi ora noi dobbiamo cercare di completare quello che è il nostro lavoro in questo momento l'impero ha delle piccole pezze qui da Genova e Stoccolma che non sono connessi quindi veniamo conquistare questo lì dalla Svezia la Svezia e forse dico forse dovremmo anche provare a mettere Milano nell'impero e così da avere anche novità e poi il papato e un po' di ridimensionarlo dovremmo fare questo dove Milano dovrebbe essere il nostro assallo con il penultimo riforma imperiale io ho un po' innanzitutto Milano vuoi far parte dell'impero e permanentemente left the original empire asking Milano would like to join empire led by Great Moravia si ha permanentemente lasciato l'impero bene quindi l'unica scusazione è basta Ezzala ma basta Ezzala non si vuole che è più di 100 e quindi ciao Milano spiazze spiazze stessa roba da Milano tra noi comunque mettiamo play e crema micrata dall'Asburgo che non ci interessa davvero fare l'impero manca davvero pochissimo non so come potrei spingere ora perché abbiamo 15 rettori favorevoli e rettori contrari sta migliorando quindi vuol dire c'è cosa da fare c'è speranza rinnoviamo tanto i territori all'impero ok tecnologia miriamo quella militare stiamo in pari con tutto è meraviglioso miriamo quella la cavalleria se ricordiamo la cavalleria e cannoni ancora tutti i cannoni tanto muore l'imperatore mettiamo un attimo pausa la cavalleria mettiamoci i gallop calorie 4 ready shock wow mentre qui come cannoni il file è l'importante sono uguali forse non è su questi perché hanno più morale il electric cannon poi stabilità siamo negativi quindi boost è la stabilità sia un po' di over capacity molto impiatore allora io ho cercato di avere un impiatore tedesco ma purtroppo ormai sono tutti scechi che non c'è niente da fare e allora dovremmo potere VLA VAC VAC al decimo che è un 535 non sarebbe male anche a VAR se costa meno 20 poi sarebbe una cassa RUVIKOVIC quindi russo svedese in realtà che però non mi convince una nobiltà che è un 363 senza fare un 535 sinceramente sono 13 qua sono 12 Vladislav IV e ho Vladislav IV qui dalla marina ho questo che è un 353 questo punto mi da bene anche Ducati però a questo punto farei VAC la decima mi da impiatà un papa e un impiatore e vediamo se ora quanto siamo messi 21 e 30 forse riusciamo a annetterli ma dov'è che mi odiano questi stati marina perché mi odi ciò mi odi magari con questi stati per l'aggressive expansion eh sì comunque ciò mi odi con questi stati elettori così che magari si cambia un po' prego finita con l'ottone e i suoi alleati amministrativi per avere un avviso cieco cattolico che non ci costa la metà però è cieco quindi non deve costarci meno faccio sì con un po' per le punte amministrativi Milano matrimonio e allora una shot at più 10 ecco quasi cosa 019 fantastico ci costa davvero niente e andiamo a bustarlo un po' che dite va bene allora qui poi disputa successione la Gran Bretagna wow attenzione la Gran Bretagna è che non ha eredi però è un lancass con noi e non sarei male se è c'è 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 guerra per per loro per la Gran Bretagna qui abbiamo un sacco di abilità di di assedio non ci adesso di momento questo potremmo farlo di no mi ho fatto per questa roba credo che la stiamo facendo è stato solo tempo di costruire claim su un maniac e Danburg dove sarebbe scusami quindi potremmo fare guerra alla Russia potremmo magari prenderci tutte le regioni qui del Baltico non sai mai come deve fare guerra alla cara cara Russia abbiamo un grandissimo confine andiamo un po' di fare un po' di forti questa linea tutte campane step montagne qui non ce n'è allora sicuramente qui a cuban per bloccare questo facciamo qui un forte cuban livello 4 costa 322 tantissimi so già ma facciamolo poi qui a mansur ci bloccherebbero altro forte livello 4 dai poi tra questi qua small ice che lasciamo in livello 2 andiamo a 4 qua c'è il giamber fuori confini e faccio qua blocco un po' di territori quindi facciamo anche questo e infine un sacco di lo so ma dobbiamo farlo e un altro forte magari qui a cerca se c'è anche il fiume qua è un livello dove facciamo la normale semplice va bene quindi almeno già questo sto facendo eserciti da questa parte ne manca un eserciti dove sta la praga armè sta arrivando ecco qui la costantinopoli caridia che sta qui in sassonia allora i russi come sono essi militarmente non poco hanno 184 mila truppe sono ammasso di manpower penso sì perché dovessero essere lo massimo manpower quindi sono messi bene è una bella guerra devo dire però con la dobbiamo aspettare che magari scompare la coalition nel frattempo mercanti in più finalmente e allora richiamo diplomatico allora eppure qua noi abbiamo a Cracovia e a Ragusa che stanno collettando però c'è solo 22% un vero peccato poi c'è Ragusa Peste e Kiev e Kiev vorremmo magari puntare un altro posto Costantinopoli Venezia 31 Costantinopoli deve essere più alto 38 Costantinopoli che push magari verso Kiev e prima ho iniziato a costruire un po' di mercati mi sa che lì non ho fatto niente e questo è questo che c'è un sacco di problemi no no ah non voglio prendere quest'uomo allora qui già c'è è ok poi qui un bel più 4 ok poi centro di commercio perché cambiano la parasola allora Varsavia qui c'è un un teleport ok l'Uben c'è qua non c'è un teleport l'Ovo non c'è niente quindi il teleport poi qui c'è un teleport a Cracovia ha messo un teleport se non ricordo male si però cresce qua l'infrastruttura e anche il centro c'è una grande città e altri punti non ci siano questo c'è qui la città Lublin pure parsavia c'è da entrare dei grandi centri di commercio così che possiamo noi a gestire questi questi posti ok quindi qui stiamo 25 e poi come migliorà poi 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 continuiamo qui possiamo perfetto 201 e Lublin lo fa parsavia non ho fatto ma si l'ho fatto livello 2 livello 2 qua c'è livello 1 dai livello 2 perfetto già stiamo migliorando le infrastrutture commerciali qui in Cracovia da avere così un po' più di soldi vai Caridad qui protect trade magari sarebbe ottimo stiamo fare un po' di protect trade nei territori ci interessano che voglio questo no non voglio vedere l'avvisor ci costa poco perché perché se no ti sei brutte ma loro ho armi non star no no we split connection with heart our relation with all other christian country eh vabbè vediamo altri paesi non ci interessa c'è un po' di arrest poi qui non c'è niente da fare nel frattempo qui con la costruzione dei porti qui ha fatto ottimo dai così allora qua il fortello l'ha fatto qui stanno costruendo i porti qui c'è davvero fare un bel po' di post trade company visto che non ci avrebbe stato l'autonomia oppure provare ad abbassare l'autonomia c'è un po' di state anche se ne ho oltre i government capacity riduci mercantilismo ma basterebbe l'influenza non quello che vanno al massimo devo fare questo non c'è che abbassa l'influenza dei mercanti che è troppo alto davvero roba vai così amico mio continua a convertire che ci facciamo a fare tutti facciamo un po' di manufattura per fare più soldi qui 64 62 quanti soldi quanti soldi quanti soldi gli tengo uno scadono dei maniucchi nel 41 che me ne da ramburg dove cavo è ramburg ramburg ah sta qui ma sono già nostri quindi non ci interessa niente come capacità di come siamo sempre oltre di 200 circa mamma mia mamma mia iniziamo a fare un po' di cort house in cerca di massire tutti gli aspetti quindi anche fare il cort house è importantissimo per abbassare la come capacità di così non andare oltre non fare spese inutili non è morto vabbè è morto il tizio la propria apposta allora l'ans disciplina 0,87 prendi questa disciplina normale dieta la possiamo fare però che si cosa vogliono rieca e per manufactory quindi andiamo a rieca che c'ha anche questo tessuti buoni ma di fatto si li può fare 102 ci dà 0,4 e c'è un po' di autonomia ma che c'è da fare se la vengo e la cosa vanno le nostre entrate in questo momento noi guadagniamo a 134 davvero tanto si stai mantenendo molto alti e cose varie ok qui forse sono stati fatti una bella linea di forti difensivi che ci costano noi che siamo a confine spero che vagano rivolta dove ci pensano qui i nostri cari amici ora la coliscia come va ancora è alta io aspetto che finisca la coliscia e poi farai la guerra Francia contro Tunisia Mamelucchi che bello vediamo un po' come andiamo com'è ricchezza meno 18 e ora con le war tax più 37 ok la guerra è contro Mamelucchi e Tunisia e Somalia quindi iniziamo a spostare magari dei che ci interessano guardate qui Inghil 42 poco non ci dà il massimo 41 43 quando è questa poliscia questi ma che poi si sta andando bene se sono ancora a Kurt House non dico domani no e quindi mi sa guardare a Kurt House che per essere sotto i 1500 e dai così dai così costruiscivi che puoi qui la mata è quasi pronta eccellente 56 si dammi un buon generale guonando il guerriero ah sono già scomparsi i ribelli niente non si vede a niente quindi potremmo questa armata al nord oh guerra finita a noi c'erano un po' i soldi e penso che ci pigliano solo questa città eh 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 può fare altri ma altri volta dove vabbè in be eh labbra del burgo c'erano loro ok mo la coalition quando si smonterà chi lo sa ci rompono ancora le scatole vediamo punti amministrativi va bene che vuoi fare questa bella curicciola così per espare i nostri domini mi piacerebbe però vediamo una cosa gracovia 25 c'è impressionante cosa ho fatto rimanere sul 25 dove forse costruire un po' di commercio qui solo qui a cracovia allora andiamo un poco investiamo a cracovia anche in inghiere buono va 1 e 20 ok solo una costruita che brutta cosa che brutta cosa vogliamo reda 7 togliamo un attimo i forti e vogliamo così 48 e 3 119 finché non scalare la tregua io non posso finché non scalare la coalizione non posso attaccare perché possede questi mi attaccano le spalle non va bene la frangente della russia ha fatto la guerra con i temoridi e la guai il sciola del pifero oh sono in guerra con con chi ciucchi wow sono in guerra altra parte del mondo non so se li hanno tutte le armate non penso però davvero molto figo perché può dire che non mi piace tutti lì se entri in guerra allora adesso la sbezia si metto col bel gelante si porta la coalition ragazzi dalle guida di benchmark vedi ok la coalition si sta smontando molto bene c'è smontata la coalition possiamo un'altra curta se c'è bisogno andiamo un poco direi di no siamo al limite ok però dobbiamo anche fare un po' di strutture dei ricchi e che cosa deve essere un centro di commercio incredibile quindi costitiamo ora ovunque 1.80 1.40 2.20 qua c'è drittura un tremolo così e qui assolutamente anche a Praga anche lì abbiamo lo so io a livello 2 diciamo centro di commercio e va bene che succede burgogniamo matrimonio così si non può con chi dobbiamo fare matrimonio plus abbiamo burgogniamo abbiamo francia non abbiamo matrimonio e anche con il brandeburgo ciò che abbiamo sì abbiamo qualcuno libero quindi royal merce ci riva la mare brandeburgo non ciò che è una repubblica ma è un episcopato tre vipure milano non si può e però non si può va bene va bene continuiamo a costruire qui qua un bel più 3 non fa mai male ah ho sbagliato ma vabbè e qua c'è un quadro addirittura che bello che bello tanto la question si sta vedo sbontando piano piano speriamo continui così oh la borgogna la borgogna non ha eredi non posso fare chemtraum perchè non so se c'è dinastia però se non lo soverare eredi magari ci intascano a noi o un poco peric patinato vutte ingostad e toranzo che borgogna non c'è niente qui prestigio mi sono più due non state male nella spagna meno pignone ma chi si frega la spagna nel missionario ci serve 098 addirittura mamma mia 098 a livello 3 e se fosse questa cultura io già avrei lo push al massimo e così anche costantinopoli può essere convertita ragazzi anche costantinopoli io non ci posso credere facciamo una cosa iniziamo a fare un po' di project trader si animirà anche questo aspetto magari sono stufo di non avere qui il dominio l'accuso efficiency scontato ho punti amministrativi faccio punti amministrativi perché adesso non ci interessa ci costano più leggi ma faremo più soldi qui amministrativi 10 diplomati tecnologici o amministrativa quella è quella che potremmo sbloccare prima direi amministrativa e militare non di militare va si costa la metà e blocchiamo altri cannoni mentre 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 qui si fanno qui si fa la gran moravia o si muore come diceva alcuno allora novice appartiene si al limite il limite proprio e vediamo se questo lì for me non ha funzionato c'è anche un po' qui per migliorare i commerci un po' ovunque e allora per influenza è clero mi piacerebbe allora qui sono la 27 e spero di crash anche perché è vero avere la prussia che non c'entra niente se qui è il patinato che se ti avessi addirittura il patinato non dobbiamo pensare che fosse nette di vassalli mi sa arriva sassonia così dovrei cercare che rompesca però dobbia crescere non diminuisce ci rompesca il clero basta i mercati vari non dimmi manifattura mettiamo più soldi amministrativa militare ecco l'urigo affa l'urigo non c'è l'urigo non c'è l'urigo non c'è non c'è svilupparle e ragazzi direi che a questo punto non so o fino a qu'episodio o fare guarda dalla russia dov'è dito inutile qui e facciamo il poter trade va anche se è costantino lo facciamo ah no facciamo wow 20 ducati quanto è ricca costantinopoli il mio 66% quanto è ricca 6 58 20 non facciamo così poco davvero ma davvero io non capisco come è possibile poter trade c'è qui poter trade c'è qui poter trade cioè non cresco come possibile faccio così poco nel centro dell'impero qua del mio impero ti capisco i saxon ok ma qui non c'è nessuno che rompe le scatole poter trade pure qua d'aglia varsavia cioè se i patriano ci rompe le scatole allora questa coalition come va non ci siamo la coalition c'è ancora che rompe le scatole dichiaro quella loro non scala aspettare il claim scusami nel 41 dopo scelta non devo fare guerra devo fare 30 guerra qui andiamo a sviluppare un poco ancora di più o ci costa meno bene che bello come cresce il nostro impero assondo i punti quale potremmo fare sinceramente io dove in meno 3 2 facciamo un po' così il mio lo sviluppo giocheremo molto alti così anche se però così diamo un po' bene la gober capazza mi sembra vediamo un poco eeeh gober capazza di comandiamo e infatti però allora andiamo un po' se andremo a fare ola la guerra russa è buona per espandici ma nel punto di vista ancora manca un piccolo stato da togliastettino e io farò guerra voglio fare il comu guarda che manca solo questo poi qui tutto fatto accetto cattolic empire one following must be true the royal empire has an official unchangeable faith all the following must be true da 50 anni e pass since the beginning of the process and reformation all counted the royal empire as cattolic eh il problema è questo che non sono cattolici ma se faccio guerra c'è il problema che c'è una coalizione contro quindi niente allora dobbiamo fare la guerra ragazzi dobbiamoci a fare la guerra vediamo per fuori i soldi ecco più 8 siamo anche i forti e guadiamo solo uno siamo in plus ragazzi questo è buono devi creare le nostre riforme di commercio sono no più 39 scusate altro che più uno qui facciamo un'altra cosa magari per il clero se non c'è un po' di scatole catenale a Varsavia ma io faccio anche di questo catenale a Varsavia la posso costruire tranquillamente a Varsavia ci vogliamo unici rucati non è male e si dichiaro guerra la Francia verrebbe la Russia in Colombia non ci credo c'è la Russia in Colombia devo anche fare la guerra qui perché alla fine Rosenberg Dick Mark Rugen non sono si precolosi quindi Genos Alleati Take Mike ci vediamo anche questa pronuncia qua sola 100 100 100 imperial ban 100 285 imperial campaign ma non ci conviene facciamo così la confe il mio ragazzi è la guerra alla Russia tu vai proprio nella war goal e poi magari scappi vai qui e magari tu vieni qua accanto per aiutarlo sono le armate del sud le armate del nord invece mi vanno a pigliare questi tolecchi che mi interessano parecchio guardiamo alcun altro Milano entra Milano entra anche Milano entra anche il papato bene e non ci dobbiamo preoccupare ragazzi non ci dobbiamo niente preoccupare ci attaccano a che parte dove ci attaccano è mentre la sbetra ci attacca qui Dishmark però passano i mandeburgo dalla russiana bella foto attenzione no stabilità no noi abbiamo un sacco i punti però che scato cortos facciamo superiori Wartax abbiamo messo vari Wartax no 40% educati molto bene qui c'è una volta che ci rompe e scato non ci posso credere qui boom qui abbiamo fatto qualcosa monte devastation change di rivali cost atomic change file con down forse anche può fare la question expansion ma va bene ormai ciò che è fatto è fatto e qui come andiamo qui tutto è già conquistato allora andiamo a Moscova per cercare la capitale così siamo più vicini ai nostri alleati del nord dove va penso sia la cosa migliore da fare in questi casi tu vai qui idea match 3 power questo può aiutare parecchio anche per noi di Cracovia che ora siamo 29 più o più stanno crescendo più o più non cresceremo arriviamo al 5 al 100 magari dove ho perso mi dimentico sempre questi mercati sempre dimentico ma che giro fanno questi cioè fanno un giro tutta la pernistra per andare a finire fino dove fino a la remarca è bellissima sta cosa prima anche per noi ci parte di Colombia se volessimo eh la Colombia ce la supera noi vediamo un po' cosa posso farci vedere da qui allora give a claim no eh questo non penso questo neanche turn and core no ci costa anche poco 3 4 5 è bella la Colombia anche se dice la France che ci rompe ah no abbiamo tutta la Francia no 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 e infatti no col cavolo col cavolo che poi la Russia in Colombia boh falla a capire questi allora Baco è pure caduta uh va mia neva tu mi vai qui stagione qua si o ma è qui tutto fatto non so più davvero cosa potrei gli togliere lo accettano ok mi dai war rap no finanza qui i soldi si ok quindi fino a questa bella guerra con la conquista qui un po' di aggression expansion mi sa fatto anche la casa di converti subito mandare gli preti e infatti io prima devo corare eh quanto siamo 115 wow la più grossa è l'unda vale di tutto vale di tutto si perfetto un po' di aggression special e riusciamo anche a mantenerci non ci credo io emozionato eh perché stiamo scendo a tenere tutta armata al massimo ok left coalition bellissimo bellissimo cioè io ho fatto la guerra per aggressività e poi lascio la coezione è meraviglioso questo è meraviglioso mi viene da piangere ragazzi l'emozione mi hai fatto un buon lavoro e allora e allora anche qui una bella guerra ho fatto mi sento il microfono i territori che sono tutti nostri che dobbiamo corare solo è meraviglioso questa cosa ora abbiamo anche 5 o 6 belli pompati guardate a traga questa questione è ancora molto cortaos perché ne abbiamo bisogno per diminuire al massimo la la capacity così poter fare più stati fare più su di questi stati abbiamo ora tantissimi territori in più da sistemare però a gross day attenzione cattoli bicando ufficio affetto da all in raw empire wow quindi abbiamo l'obiettivo raggiunto yes baby e vai di proclam e com'è airbrake steltun quindi un arrivato al 100 in pratica non posso dirci nessuno no perché è 50 mi perdono tutti i punti quindi non posso dirmi di no e facciamo anche un altro obiettivo cattolico empire che ci darà questo ok quindi all all the excess prestige will be converted into each type for monaco power non capisco ma we're in power into fate state questo è ottimo 20 anni di valestate evidentemente advice non give 5 reason let per level io faccio questo e ci manca solo il brand burger in pratica ragazzi abbiamo fatto tutte le missioni anche come commercialmente ci si vede tutta la crimea manca forse pochi stati che c'è shiravan ecco la crimea in generale è nostra manca un po' di costa ottomani ma so fa anche un po' di guerra festa è nostra che come è nostra il baltico è nostro la parte della prussia kiev è nostra lube che si riuscì da noi quindi è così nostra la prussia dovremmo anche ora iniziare a possiamo ah no perché sono una marca dove cambiare forse la forma di governo è un poco fortify subject you pay for the fort ai 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 sono una marca non possono cambiare non lo so vedremo poi dopo ma intanto ormai questa è giunta quasi alla fine e io sono molto felice perché sono molto bene ho fatto tutti i certi mi sono prefissato ho formato una gran morale forse riuscirevo anche a fare questi qui che ogni volta farlo è abbastanza difficile ho la fede dominante anche il cattolicesimo e qui andiamo come eredici sono solo unici stati eredici mentre i grati sono tutti stati nosti voto anche tutti noi hanno patinato in Asburg ma non ci interessa sinceramente e anche a Borgogna attenzione non stai attenti ma abbiamo fatto tutto questo istituto ci siamo anche abbiamo riformato la nostra economia e infatti ora riusciamo a resistere alla corruption alta a dover far ricorrere le regioni ovestese esercito forte cioè riusciamo a gestire il nostro impero al massimo delle spese questo è tanto ora cerchiamo anche di migliorare l'assolutismo mi sa in qualche modo lo faremo con molta calma qui gli unici rivali sono ormai Spagna e Russe che sono gli unici nostri rivali aspetta che non ci conta ma anche noi pensiamo a loro sinceramente i nostri interessi sono tutti qui e la great moravia per lungo e largo e lì preferirei proprio qua direi molto più legibile sinceramente ma comunque ragazzi siamo qui con questo episodio spero che il video vi sia piaciuto se non vi lascia un like commentare di la vostra in caso di aver fatto iscrivetevi al canale per le campanelline c'è notifiche per i video che ci ranno seguiti sui social come facebook discord instagram e tiktok così per sapere più sul mio lavoro con dei vari contenuti e offerti e partecipiamo all'attività di abbonarsi di youtube parerai mangiare il panel sui vettori di vantaggi a cui belge emoji video potete vedere prima anche se siete dedicati a abbonati e quant'altro c'è una curiosità di abbonarsi in abbonarsi infatti non sono tutti a fare live su twitch e youtube incontro non sono tutti precisi ma vi avvertire tramite social ho le notifiche delle due piattaforme così avete anche due modi per subito di lavoro ma anche di seguirmi in modi diciamo in numeri differenti se lo volete bene prima di questo episodio può essere il penultimo episodio il posto sarà semplicemente il posto possibile finale in cui faremo tutte le forme imperiali e in cui raggiungeremo finalmente il nostro ultimo finale ossia di inglobare il secondo impero e diventare una potenza economica mondiale e commerciale ma dal vostro mi terri passo e chiudo ma dal vostro ma dal vostro ma dal vostro